ciao a tutti ragazzi mi dimostrano che questo è un canale da 40-50 mila iscritti purtroppo quando ti esponi diventi antipatico, puoi piacere, non piacere ma questo lo accetto lo accetto perché è giusto accettarlo ma per chi segue questo canale, perché ci sono molti utenti nascosti che lo seguono e non si iscrivono iscrivetevi, non vi costa nulla poi fate io volevo dire al reverendo a quello che aveva lo scoop mondiale di Pinco a quello ti diceva che c'era Turkish Airlines come nuovo sponsor dell'Inter, a quello che ti diceva che c'era una pioggia di milioni dalla Cina 250 milioni dello scudetto 150 milioni per Zhang sul mercato, cose dette 10 giorni fa, scusa 20 giorni fa live cancellate, video cancellati a quel cialtrone voglio dire che io ora sono tranquillo perché con Octree sono tranquillo con Octree mi sento meglio tutti i tifosi dell'Inter si sentono meglio perché era lui e il suo Zhang che hanno rilasciato dichiarazione di paura contro Octree non siamo stati noi non sono io perché se c'era uno che stava uccidendo l'Inter era lui non era certo Octree uccidendo a livello finanziario perché lui la stava la stava distruggendo l'Inter e abbiamo visto in che condizioni voleva andare avanti nonostante tutto però poi dopo è stato sincero nel dichiarare il signor Zhang che non ero pronto a lasciarla non eri pronto a lasciarla ma eri pronto a distruggerla indirettamente l'Inter caro Zhang perché non te la potevi più permettere da due o tre anni quindi la tua narrazione caro Reverendo portava allo sbando quei pochi tifosi ignoranti che seguono quelle cazzate che dici che non riescono a guardare al di là della palla che entra in rete perché io mi sento molto più tranquillo con Octree io sono tranquillissimo con Octree con Octree sto bene con Octree so che non fallirò ci sono delle persone serie ora al comando che hanno delle garanzie finanziarie e il cinese se le scordava caro Reverendo dei miei stivali e te lo ripeto l'ho scantinato me lo sono comprato da solo non sparando le cazzate e chiedendo i soldi ai tifosi dell'Inter poi nella vita succederanno tutte le cose io capisco e uno parlo in generale nella vita quante cose succede ragazzi quello perde il lavoro e magari scelga guadagni da un'altra parte quell'altro viene lasciato succede di tutto ma tutto ha un limite per quanto riguarda quello lì che si pettina con l'ore delle scatolette di tonno ora cosa vogliamo dire che perdi 200 milioni quest'anno con quei capelli cascio e pepe ora cosa vuoi dire che perdi 200 milioni a cannolicchio cosa vuoi dire cannolicchio ora che già dal colore dei capelli te riesci a capire lo stato d'animo di una persona cosa vogliamo dire se hai fallito anche te allora ora poi arriva la ex o il ripiano quello è un altro discorso ma quindi stai perdendo 200 milioni all'anno ma di cosa ragioni capello cascio e pepe o si con una puntina di burro anche ci metterei ma di cosa stai ragionando due squalificati quest'anno dopiche calcio scommesse ma di cosa ragioni ragazzi ho fatto uno short questo video guarda è proprio concentrato su questa cosa qui che la dico in ultimo proprio per per far si che rimanga più impressa ci sono due gattini abbandonati nella zona di Bologna ho fatto uno short per chi fosse interessato ad adottarli oppure ad adottarne uno solo me lo scrivesse sotto il video che lo metterò in contatto con la persona che sta gestendo e che si sta prendendo cura di questi due gattini che ringrazio veramente e che stimo tantissimo quindi ci sono due gattini zona Bologna abbandonati che stanno bene che sono acuditi in maniera perfetta che però questo ragazzo non può tenere quindi e chiunque di voi fosse interessato ad adottarli tutti e due uno solo mi contatti e me lo scriva sotto il video ciao Inter Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti